Una storia vera è un film del 1999 diretto da David Lynch. Il titolo originale di questa pellicola è The Stride Story e da un certo punto di vista, anzi senza un certo punto di vista in realtà, è il titolo intraducibile di questa storia. Perché? Perché sarebbe in realtà Storia di Stride. Storia di Stride, ovvero di Alvin Stride, un contadino dell'Iowa che nel 1994, questa è una storia vera, così come dice il titolo di questo film, nella versione italiana, a 73 anni di età ha intrapreso un lunghissimo viaggio, un lunghissimo viaggio di centinaia di miglia per andare dal fratello che ha avuto un infarto e che vive molto lontano da lui. A bordo del suo trattorino scalcinato, questo contadino dell'Iowa si è fatto qualcosa come 240 miglia, quasi 400 chilometri. E questa è la storia. Questo film è stato girato nello stesso percorso che fece all'epoca Alvin Stride ed è stato girato, da quel che so, addirittura in ordine cronologico. E ad avere come protagonista assoluto di questa pellicola, il pubblico può godersi l'ultima interpretazione di Richard Farnsworth, che qui appunto dice il suo addio al mondo del cinema e purtroppo l'anno successivo darà addio a questo mondo. Infatti l'interprete era malato al tempo delle riprese. Era malato al tempo delle riprese, forse per certi versi anche questo ha influito sul suo interesse a ricoprire questo ruolo di questo settantenne non più in forza e anzi abbastanza acciaccato, tanto da non potersi permettere di utilizzare una macchina o anche soltanto di avere il tesserino, la patente diciamo per poter guidare e quindi è dovuto ricorrere appunto a questo trattorino. Farnsworth era malato al tempo delle riprese, difatti la difficoltà di diambulazione che è caratteristica del personaggio di Alvin nel film era in realtà la reale difficoltà dell'uomo, Farnsworth, che aveva un cancro che aveva dato metastasi a livello osseo. Si sarebbe suicidato l'anno successivo e per la sua interpretazione avrebbe meritato la nomination ai premi Oscar successivamente nell'anno 2000. Peccato, peccato per la vita difficile che ha avuto, soprattutto la fine complicata e difficile che ha avuto Richard Farnsworth, che c'è poco da dire, ha veramente spaziato in questo film. Il film di Lynch, attraverso l'interpretazione di Richard Farnsworth, regala un vero e proprio road movie, un film esperienziale per certi versi. In questo film praticamente non succede nulla, non succede assolutamente nulla. È, così come apparentemente sembra esserlo per il personaggio di Stride, di Alvin, è un godersi il viaggio. È un percorso, quello che viene fatto, senza particolari discorsi, particolarmente lunghi o chissà quali lucubrazioni, senza colpi di scena, senza una totale apertura del personaggio di Alvin verso le persone che in qualche modo interagiranno con lui nel corso del suo viaggio, che lui incontrerà, magari qualche parola attorno al fuoco, mentre si prevede un caffè e una sigaretta assieme. È un viaggio di rassegnazione al tempo che è passato, all'esistenza che ha avuto e all'esistenza che ha in quel momento per il personaggio di Alvin. E tutto questo secondo me è molto percepibile. È molto percepibile ed è molto, più che bello, affascinante. È un film questo che ha tutta un'aura particolare e la, di fatto, totale assenza di azione, in qualche modo, salvo in alcuni momenti che però non sono mai veramente di tensione in realtà. Tutto questo è reso davvero bene. Questo è l'unico film che io sappia per cui David Lynch non ha messo mano alla sceneggiatura e si è affidato però per la sceneggiatura a John Roach e a Mary Sweeney, collaboratrice da anni e anni del buon David Lynch. Già, ad esempio, hanno collaborato nella produzione dei segreti di Twin Peaks, la mia cara Twin Peaks, ma anche in strade perdute, e comunque sarà una collaborazione ricorrente. Secondo me, per certi versi, lo stesso David Lynch in qualche modo si è goduto il viaggio. Si è goduto il viaggio, non ha voluto complicare troppo la storia e questo per poter dare vita a una storia vera, appunto, magari non così complicata come sono certe storie di Lynch, ma effettivamente reale. Tutto ciò, secondo me, è servito. A parte in alcuni momenti, in realtà, la regia di Lynch, che comunque in qualche modo è riconoscibile, è riconoscibile per alcuni soggetti ricorrenti e per alcune inquadrature, per dei primi piani, per dei dettagli e una gestione di determinate inquadrature e contemporaneamente un inserimento delle musiche, ovviamente, by il buon Badalamenti. A parte queste cose, che comunque sono riconoscibili come ninciane, però questo film non voglio dire che è documentaristico, perché non lo è, assolutamente, però effettivamente è abbastanza uno slice of life, è semplicemente una possibilità di vedere un qualcosa di reale, di palpabile e di vero. È palpabile il disagio del personaggio di Alvin, probabilmente complice anche la reale situazione del suo interprete, Farnsworth. È palpabile la difficoltà per il personaggio di Alvin, però anche, oltre che per la malattia più o meno grave, il disagio fisico, anche le difficoltà esistenziali, che prova e che ha provato. Difficoltà esistenziali che risalgono fin dai tempi in cui è in guerra e le difficoltà di essere sopravvissuto alla guerra, magari di avere adesso tanti anni che per certi versi sono stati forse sottratti ai suoi commilitoni, che non ce l'hanno fatta. È palpabile la difficoltà del personaggio, in qualche modo, di forse dover rassegnarsi e aprirsi con la figlia, Rosie, interpretata da Sissy Spacek, che, poverina, ha tanto buon cuore e, cioè, per le cose che contano, ma purtroppo, a causa di una vita, di un'esistenza travagliata e molto drammatica, ella, infatti, a causa forse di un'incuria, forse semplicemente di una fatalità, è stata allontanata dai figli e, quindi, ha questa balbuzia e questo apparente deficiente intellettivo che la rende, forse, per certi versi incapace di riuscire a sostenersi da sé e a reggere determinati traumi. Ma abbiamo il nostro Alvin che prende parte, abbiamo un nostro Alvin che prende parte e che ci permette di vedere che cosa? Ci permette di vedere delle strade lunghissime che sembrano non finire mai, ma delle quali godiamo praticamente di ogni dettaglio, di ogni chilometro, di ogni miglio, anzi considerando il discorso dell'unità di misura americana. Godiamo delle musiche di badalamenti, come ho detto, il buon angelo è sempre assolutamente suggestivo. Godiamo anche dei rumori della natura, ad esempio il fuoco scoppiettante quando il buon Alvin tira su un fuoco per scaldarsi la sera e godersi le stelle, quelle stelle che tanto gli sono care, che aprono questo film e che allo stesso modo lo concludono. Il buon personaggio di Alvin diceva che la cosa che gli importava di più era semplicemente andare dal fratello e alla fine in qualche modo mettere da parte tutti i dissapori degli ultimi dieci anni, motivo per il quale non si sono più parlati, i due infatti non si parlano da decine di anni e semplicemente passare del tempo assieme, passare di nuovo del tempo assieme e ricongiungersi così come forse avrebbero dovuto fare già da tanto tempo. Il fratello, ma anche non soltanto lui, sarà la possibilità per gli spettatori che hanno gustato Twin Peaks di rivedere qualche volto noto nella fattispecie Eridin Stanton e l'interprete di Lyle, il fratello, che alla fine rimarrà piacevolmente stupito ma a parte qualche magari mezza lacrimuccia anche delle palpebre non si farà travolgere dei sentimenti così come non sia praticamente mai fatto travolgere dei sentimenti il personaggio di Alvin. Anche magari nei momenti più riflessivi, anche magari nei momenti in cui effettivamente un po' di quella oscurità che è assente quasi completamente in questo film e che è tipica di produzione di Inciane, un pochino apparentemente sembra venire fuori, come ad esempio in alcune situazioni come appena prima di passare un ponte, quindi imminentemente al ricongiungimento col fratello, oppure perché no magari una notte appresso ad un cimitero. Ecco effettivamente questa forse è l'unica cosa che non ho molto ben compreso in realtà, ovvero questo piombare di una musica anche un po' inquietante in questi momenti. Questa forse è l'unica cosa che un pochettino non mi sono perso, ma forse semplicemente sono difficoltà, difficoltà che in realtà sono della vita, di vita di tutti i giorni, ma che in determinati momenti vengono avvertite un pochettino di più, magari quando sei sul momento di compiere qualcosa di importante oppure semplicemente così, da nulla, qualche ricordo, qualche difficoltà, qualche stanchezza, qualche piccolo incubo magari ogni tanto rispunta fuori da solo, improvvisamente, senza un se e senza un ma. Chissà. Ma queste forse sono elucubrazioni esagerate per questo film. Forse questo film, che comunque ha dei temi importanti, secondo me non va neanche troppo analizzato. Secondo me questo film va visto per quello che è e forse per certi versi in modo migliore per poterlo in modo giusto, Strider, se vogliamo un giochetto di parole, per poter vedere questo film è semplicemente vederlo e gustarsi il viaggio del personaggio di Alvin che cerca di ricongiungersi col fratello perduto e semplicemente godersi, assieme all'ultima interpretazione di Farnsworth sotto la direzione di David Lynch e assieme, per certi versi, al vero personaggio di Alvin Stride, godersi il viaggio. Questo è il 240 miglia, con questo trattorino rasa erba che sembra quasi non finire mai e che alla fine dei conti, a un certo punto invece, finisce quasi troppo presto. Ve lo consiglio, guardatevelo.